L'Uomo Ragno lancia la propria ragnatela anche su Roma. E' stato infatti presentato nella capitale il nuovo film della saga The Amazing Spider-Man in 3D che vede l'attore Andrew Garfield nei panni del super-errore che era stato interpretato con successo da Tobey Maguire. Lo conosco da quando aveva 3 anni, racconta Garfield, ed era il mio super-errore preferito. L'attore ha poi parlato di Roma ed è la calda accoglienza ricevuta, opinione condivisa anche dagli altri componenti del cast, come l'affascinante Emma Stone. Amo Roma così tanto, confessa l'attrice, è l'ultima tappa del nostro tour europeo e quindi quale città migliore di Roma? The Amazing Spider-Man è diretto dal regista Mark Webb e arriva a 5 anni dall'ultimo episodio della fortunata trilogia sull'uomo ragno, diretta da Sam Raimi, ma in questo caso il personaggio è più umano e meno super-errore. All'anteprima italiana hanno preso parte, in un clima più rilassato che glamour, anche molti volti noti e meno noti della scena italiana, per una sera tutti i fan dell'errore inventato da Stan Lee.